Il governatore Vincenzo De Luca ha tutto campo sull'Irpinia dai trasporti alla sanità e al blocco a Trivelle. Durante la visita del numero uno della regione campania Morra De Santis si pone l'accento sui provvedimenti di Palazzo Santa Lucia. Invitato dal Comitato per il Bicentenario della Nascita di Francesco De Santis, De Luca, accompagnato dalla Presidente del Consiglio regionale Rosetta D'Amelio, non si sottrae le domande dei cronisti e afferma Cari ragazzi, non ci distraiamo perché i risultati già ci sono. Allora, guardiamo anche con molta onestà intellettuale le cose che sono in movimento, che sono tante. Noi avremo altre cose di straordinario rilievo legate per esempio all'alta capacità Napoli-Bari. Abbiamo acquisito una stazione a Grotta Minarda perché siamo intenzionati a potenziare quest'area. Abbiamo preso le decisioni e l'ultimo consiglio che sono importanti per l'alta Irpinia. Quando abbiamo deciso di impedire le trivellazioni a protezione del bacino idrografico più importante d'Europa, mi pare una decisione di grandissimo rilievo per tutta l'Irpinia. Dunque la situazione è fortemente in movimento e credo in maniera positiva. E la sanità merita un capitolo a parte. Il governatore rimarca per quest'area di Irpinia la funzione centrale dell'ospedale Frangipane di Ariano Irpino e l'azione di difesa portata avanti contro Roma con i suoi tagli categorici. Abbiamo un ospedale che ha una funzione centrale, Ariano Irpino. Abbiamo difeso per le funzioni possibili Sant'Angelo e stiamo potenziando ovviamente sia l'ospedale di Avellino sia quello di Solofra. Ora tenete conto sempre che noi siamo commissariati, siamo in piano di rientro e la spinta che viene da Roma è a tagliare tutto. Quindi quando difendiamo un ospedale, sia pure riorganizzando le funzioni, dovete sapere che è un miracolo.